Musica Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con questa 35esima puntata di Mad Max Oggi come vi ho promesso andiamo avanti con un po' di storie Allora abbiamo finito di girare attorno a cose inutili direi anche di andare avanti Andiamo avanti con questa storia, andiamo qua da Pincai, sentiamo cosa ha da dirci Facciamo fuori tutte le sue lagne e vediamo un po' cosa ci inventa e chissà cosa ci trova fuori Occio adesso, Occio adesso, Occio adesso La venda funziona La venda funziona La venda funziona Prende Prende, ma la venda ha un altro beneficio Collegando due a la mattina per piacere La comida resta un problema C'è un posto indiscutibile del mondo vecchio Con pieno di cani di pincai Più più comida che tu e io potremmo Prendere quello che bisogna E tu ricevi tutto ciò che resta E anche potrei anche stare Si Se proprio vuoi Pincai ha bisogno di più viste per il viaggio Eh vedi Un progetto dell'allevamento di larvae Della fortezza Che è molto utile Questa è scendere il punto con un segnale luminoso Dove saranno mai? TADAAA In mezzo ai dune Lì sono stato ragazzi De sabbion Ovunque Ma proprio vediamo anche dentro gli occhi Andiamo Dirigiamoci verso quel punto Per poter sbloccare anche questa cosa Diciamo della fortezza Che vabbè ormai non ci servirà più Però non si sa Se magari siamo nei paraggi Abbiamo bisogno Diciamo di un po' di salute Ecco che possiamo farla Tanto ho visto che Anche se non la fate all'inizio Scusate un attimo Come potete vedere è stato tutto sgomberato Non ci sono Né mine né niente Proprio zero Vedete in verde trittorio libero Vabbè se siete Da deep a free art Qui state combattendo Non potete Fate un salto qua Dopo ritornate qui Per se avete bisogno Suito Sì Iniziamo Romper gli uovi Beh vediamo Dai Faccio adesso Uno Galata ha fatto un salto Che altri Gai da continuare Oh no Perché Quello era un avvertimento Sì Continua No E Orca miseria Ghiassi Rottami Mezzo Scatto Sì Oh cosa c'è da c'è? Cosa c'è di chi fa? Si, tirami... Oh! Dai po' Mannaggia che go Eh, il cuore marcia Boh, adesso c'è il match qua sotto Ti davo due pugni che... La prossima volta... Ecco, intanto, e ti... Là Giusto per, dato che... E dato che mi rotto il proprio scato Conviate i vostri seguimenti della mignota che non serve a niente La farò pure saltare pararia a macchina Così guadagno anche un po' di rottami Che utilizzerò a mio scopo E adesso mi bevo anche un gesso d'acqua Là E così siamo a posto Intanto Munizioni Ne ho finchè voglio Basta entrare In una fortezza Beh, dire che... Aspettate che vai via Dopo il cuore di guano Bene Dobbiamo potenziare anche l'archione del tuono, la... E quant'altro In modo che... Che faccia più danni Come potete potuto vedere Toglie quasi tutta la corazza Perciò dovrebbero due colpi per ogni... Per ogni cosa Vabbè Vedremo in futuro di... Sai di fatto che da DeepFear a quello... L'ultimo Saranno completate molte cose Perciò magari... Faremo prima le missioni della storia E poi andremo avanti con Gastown E per... Vediamo cosa... Cosa succederà poi in futuro Vabbè... Non me ne frega niente Vamos Si intravede un pallino Ah... Si tratta su... De... Contra il segnale Ah... Arturita qua Puff... Bene... Siamo a posto... Ah... Anche il secondo vi volete... Proprio... Guarda... Un po' più... Distante no eh... Proprio... Tranquilli eh... Andiamo attraverso Tune... Magari facciamo prima... No... Ma anche no... Guardate... Castown... Sempre più vicina... Eh... Arriveremo anche lì... Fa un po' di fatica a macchina sinceramente... Ma lo sa più... Comunque... Un po' di aiuto con il nostro... A superare queste... Tune... Un po'... Un po' di �mmenso... Questa... Un po' di fare sull'unica... Vara... Un po' di... Un po' di che questo... Vi fa nessun po' di... Un po' di... Un po' diей... Un po' di... Un po' di... fine eh sapevo io che che sbucavano da sotto la sabbia sui 4 macachi qua ho sentito subito bene dai ecco ma scusami un attimo fammi prima quello vicino e dopo quello lontano no mamma mia beh ma c'è un po' strada cioè eravamo lì potevano segnarmi subito quello lì a fianco avanti e poi andai in rio quanto spreco di tempo siamo giunti anche a quest'altro punto sai di che furia che fa una macchina è già il punto più alto binocchio cosa c'è da vedere allora dobbiamo guardare tra i due c'è tutto sto casin fa guardare in mezzo due punti che abbiamo lanciato per andare al terzo punto per vedere una casa vabbè così è raggiungi la chiesa ormai è sotterata ma raggiungiamo la chiesa tasica già vicina vamos beh ma non fermo no il video ragazzi perché siamo da qua la eh sicuramente sicuramente da garazzo bellissima questa chiesa chissà perché ma mi sa che dovrò combattere qua giù siamo profondi però voglio non cadere ragazzi è un po' di luce siamo ancora alti bella allora qui sotto una volta c'era una città guarda Rotami 13 Rotami non vorrei dover combattere ma mi sa mi sa tanto che quattro cazzotti potrebbero scappare uno è quasi morto ho forse aspettato a particola del prete prete padre figli spiriti santi posto vediamo vediamo questo c'è è un messaggio amici l'altare i vecchi ricordi un grumo delle osse un pallino in mezzo al muro e giù di Rotami 7714 manca manca un bel po' bene entriamo ho visto una porta qua ah però campanì permesso giuro se mi salta fuori uno che mi fa prendere paura mi viene lottante tutto sto buio quali posti i soldi o chiunque fuori perché ragazzi questo se non ricordo una tannica benzina cosa mi serve una tannica benzina qua sotto chissà perché ma forse un'altra di qua un'altra di qua forse dobbiamo dare dai fuoco via 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 andiamo a parte opposta da dove ci dice Rotami dai che almeno in questa missione prendiamo un po' di Rotami per se no mi sembrava una missione troppo corta per giuro se trovo una banda di porcospini mi tocca anche combattere inizia male ragazzi inizia male la torcia non si è mai spenta in tutti i cazzo di buchi dove siamo entrati deve spegnerci qui dentro ci sono barricati dentro non sono mai più fiusi spiriti ci sono come diceva cibo i piloti sono pronti per prendere si ma si sapeva che c'era la cibo beh ma non c'è tanto che mangio perché poco ha fame guarda tutto cibo tutto cibo un altro rotame oh la buona vamos fuori da sto posto macabro e segnaliamo e via corriamo guarda ovviamente si ho notato anch'io tra l'altro non mi tocca combattere prima andare fuori non mi tocca Sì, qui sì io, che roba sia questa qua, no, 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 non mi piace, mi è così. Tu non lo so, ma niente. Poi ho tutti questi mascheri qua, ma non mi potrei stare sotto la sabbia, come che è? Oh là, quello che aspettavo. Dai, scusateci l'ultimo. Stai che via, sapevo io che bisognava... Ci hanno tolto un po' di vita, sti bastardi, eh. Ho preso il contropiede, andiamo via da qua, va, va, per piacere perché... Tutto sto buio, torcia che manca solo che si spenga, fa cagarsi del tutto. Bello, bello, sa, anche sta chiesa, sti posti nascosti, comunque. Perché sti musichetti è gioco, perché? Oh, un po' di luce, del sole, di segnare al luogo, e anche chi ce l'ange. Bene. Ok. Fate anche questa. Bene, adesso andiamo a costruirlo subito. Entriamo nel veicolo. Bella anche sta chiesetta qua, eh. Il campanile o ciò che ne rimane. Torniamo... qua. Allora facciamo subito il progetto. Poi direi che questo video è tutto, qualcosina abbiamo fatto. Sono un video, insomma, abbastanza veloci, però... Allora, io l'avevo visto nel passato. L'allevamento di larve. Sì, dovrebbe essere su... No, su di qua, no. Mamma mia, tutti questi posti dove salire. Era appena vicino un po' di... di... di marciunamento di roba. Eccolo qua. Tra che te... E' fatta anche questa. Hola, finalmente posso sistemarmi la salute e la borraccia anche qui dentro. Bene ragazzi, direi che anche per questo video è tutto. Vediamo se... No, in teoria siamo a posto come missioni. Beh, se non ha altro da... da darci... Sì, sì, sta tranquilla che... Se non ha altro da darci, penso che... che siamo anche a posto. Volevo completare quest'ultimo... gruppo qua di roba, giusto per completarla, eh, perché tanto sono 1500... ne abbiamo tanti e... comunque... servono a qualcosa. Là. Bene. Fate anche questa, così si potenzia... il tutto. Faccio adesso questa che non c'è da dentro. Abbiamo anche il The Fire... per tenerci caldi. Bene. Completo tutti i progetti, scorta per pinga in fortezza migliorata. Guerriero della strada a livello 30. Vero. Sì, hanno aggiunto... un po' di robetti insomma. Vabbè, se non ha altro da... da farci fare con le missioni, direi che... prossimo video... no, prossimo video dovremo andare qua. Praticamente. Prossimo video dobbiamo andare qua, perché Deep Free Art qua non... per ora non c'è niente. Questo qua non ha niente, a meno che non ci sia qualche altra missione in giro. quella verde è la missione storia ed è quella che ci serve. Perciò commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, mi raccomando, state pronti, attenti, siamo arrivati in un punto... entreremo qui, nella regione di Deep Free Art e poi sotto le porte di Gastown. Bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao! 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 Grazie.